Nel tentativo evidente di occultare la verità evidente, e coprire i poveri migranti, in merito all'omicidio del ginecologo Beneventano 65enne avvenuto nei pressi della stazione centrale di Milano, qualche giorno fa, si può assistere a due fenomeni, che ogni ascoltatore potrà ritenere ridicoli o manicomiali, o geniali, da un lato i media riferiscono di indagini che escluderebbero la pista dei nordafricani, perché le telecamere della zona non avrebbero rilevato nulla. Dall'altro il Fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio, giunge addirittura ad elaborare una tesi senza precedenti nella criminologia universale, e cioè che il ginecologo si sia suicidato simulando un omicidio. Sembrerebbe ovvio che le forze dell'ordine non facciano trapelare le prove che hanno, per cui ad indagini ancora in corso ci si dovrebbe chiedere se le telecamere della zona non abbiano nemmeno ripreso il morto, ma soprattutto l'ipotesi criminologica del Fatto Quotidiano, che pur di assolvere i poveri migranti, afferma la tesi di un suicidio mascherato da omicidio, non può che meritare, per la somma intelligenza evidenziata, un caloroso applauso. Applausi. 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 Applausi.